ciao a tutti ragazzi bentornati è finito il primo turno andiamo a vedere cosa è successo come detto faremo di brevi video brevi video alla fine di ogni turno e spiegheremo quello che è successo per per le regole e la sequenza di gioco combattimento movimento e tutto vi rimando allo scenario 1 di rotto leningrad dove lì veramente abbiamo registrato tutta la partita qui abbiamo giocato il 15 am si è attivata la 237 che praticamente si è mossa per andare a coprire la gorodisce e sequenza di assalto per poter costruire lo strong point quindi hanno cercato di coprire questa zona qua sapendo di un eventuale attacco della terza motorizzata che infatti avviene con il primo cheat pescato appunto dai tedeschi la terza motorizzata che prova ad attaccare purtroppo non hanno avuto la coordinazione e dell'artiglieria scusate dell'artiglieria un attacco quindi sequenza mobile attacco con la crt mobile per sgomberare gorodisce i tedeschi riescono comunque con un supporto aereo e anche ad avere il no retreat riescono a fare arretrare la terza motorizzata attivazione russa si attivano la 200 duesima che vanno qui a coprire i due ponti vicino a sozzi poi si attiva l'ottava panze che come ricordate era circa questa altezza qua e con una sequenza mobile cercano di coprire la strada principale ok a nord per evitare appunto che vengono giù i russi da nord e retrocedono pian piano mettendo a sicuro i preziosi carri in seconda linea anche se ne lasceranno poi uno qua che andremo a vedere infatti perché dopo verranno attaccati si attiva la 183esima che questa anzi la 183esima si attiva e prova anche ad attaccare questa compagnia di auto blindi ma non riesce riesce solo a farla arretrare ma non a distruggerla si torna ad attivare la terza motorizzata che per la seconda volta prova l'ennesimo attacco agorodisce l'attacco sempre sul 2 a 1 sempre sequenza mobile crt mobile il russo riesce ad ottenere il supporto aereo il tedesco no a 1 di 1 con anche l'attrito dei corazzati infatti tedeschi perdono il corazzato e anche agorodisce il non mi ricordo cosa hanno perso ma credo anche il corazzato anche loro e si attiva finalmente la settantesima la motorizzata la settantesima infantry division che attacca subito l'ottava panzer il cit viene rimesso nella nella tazza perché nel primo turno avranno due attivazioni e muovono le unità e riescono ad attaccare qua a nord adesso un po più nel dettaglio qui vicino a schirino riescono due compagnie di motocicli cioè le unità circondano due unità di compagnie di motocicli sulla strada principale e un po più a sud cioè qui tre compagnie di carri che vengono attaccate i motocicli però rifiutano il combattimento quindi arretrano e le tre compagnie di carri tedeschi più a sud non riescono a ritirarsi subiscono l'attacco dei russi ok ed è uno scontro molto pesante che porterà due perdite di step tedeschi e uno russo quindi sono già victory point l'ottava panzer si attiva e costruiscono cominciano quindi fare una sequenza d'assalto per costruire questi strong point continuano i combattimenti pesanti tra carri e la compagnia di carri russa e l'attacco da parte dei 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 tedeschi è molto favorevole ma i russi riescono comunque non solo ad arretrare non a subire degli step loss poi viene attivata la ventuno t che questa qua arancione che erano tutte posizionate qui cercano di scendere per andare a tagliare i rifornimenti qua sulla strada principale che portano i rifornimenti a assolsi attaccano queste due compagnie di carri che vengono fatti arretrare di due esamini viene attivata la 3t che praticamente qui non si muove non fa nulla la 3t sta agorodisce si riattiva la settantesima che riprova la doppia attivazione che prova ad attaccare le solite compagnie di carri e che comunque riescono a rifiutare il combattimento e ad arretrare appunto in seconda linea a difesa anche delle artiglierie questo è il primo turno abbiamo visto come avevamo anche spiegato nel primo video che i tedeschi devono pian piano arretrare cercare di perdere meno step possibili di artiglierie e carri armati qui la terza motorizzata ha provato ad attaccare due volte corrodisce è andata molto male entrambi in entrambi gli attacchi non ha avuto il supporto dell'artiglieria e neanche il supporto aereo e per quanto riguarda i russi la 3t rimane a corrodisce e questa è veramente una strada principale molto importante perché poi sono tre punti vittoria qua c'è questo questo qui a me medved e questo quindi molto importante questa strada qua questi restano in attesa di capire cosa farà la terza motorizzata se proverà di nuovo attaccare o a par cercare di passare qui in mezzo alle paludi così quindi resti in attesa la la 21 ti sicuramente cercherà di andare giù a tagliare i rifornimenti la settantesima continuerà ad attaccare sozzi e più a sud finalmente si attiveranno tutte queste unità che erano ferme nel primo turno negli strong point che cercheranno anche loro di dar fastidio a queste unità tedesche che si sono comunque posizionate a difesa della strada principale tagliare i rifornimenti a sozzi è per i russi fondamentale mandare auto supply questa unità qua vuol dire veramente riuscire a fargli fargli molti molti danni continuiamo con il secondo turno che sarà il 15 pomeriggio e andiamo a vedere come la fine